io ragazzi non me l'aspettavo ma ha un mio vecchio video anche di merda perchè faccio solo il verso dell'oritorinco ho raggiunto 285 visualizzazioni e pochi commenti 13 like e 6 dislike perchè dico non capisco come diamine ho fatto a fare così tante visualizzazioni per un video dove faccio lo scemo me l'ha chiesto un mio amico di questo video cioè faccio dove ho fatto lo scemo ho fatto un verso tipo che spesso ha fatto ridere dei miei compagni in scuola che ora sono alle medie che passano alle medie e io passo a quinta comunque non so come ma avere tante visualizzazioni non lo so mai scrivetemi qui sotto nei commenti il motivo per cui vi è piaciuto per cui avete messo tanti like il motivo per cui se ce la fate a scrivermi qui sotto il motivo per cui sono riuscita a fare così tante visualizzazioni a un solo video quindi ragazzi il video finisce qui lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao